Madonna mia, sono preoccupatissimo. Oggi finisce male. Non trattiamo quell'argomento. Cosa fai tutto il mondo? Aspetta un attimo che qua qualcuno ha pastrugnato il mio microfono. Siete male, Suma? Ti metto le mani addosso? Metto profumo di diletta qua. No, non è impossibile, non trasmette mai da qua. Guarda che noi siamo gli unici che vanno in onda veramente. Gli altri sono ologrammi, roba digitale. Mi legge un capezzo? Ma basta! Sai che lo farei io? RTI l'accendo nei cinze, le due, è un nudo! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio, scostumati maledetti. Ciao, Peto! Vi siete ripresi dalla diretta di ieri? Sì, sì. Eh, lo so, non siete più abituati. Immagino, immagino. Attenti, perché devo scorreggiare. Eh no, anche se. Quando ci vuole, ci vuole. Eh sì, sì. Allora, pronti? Vai, vai. Dai che vi presento. Vai. In regia, Antonio Summa. Merda! Summa ha la prima marchetta che fai in onda. Ecco. Sarai licenziato. Sì, sì. Puoi solo dire, fumagazzi, enoteca zoo. Bravo. Chiaro? Bravo. Saluto Mauro Mauro. Bello lui. Bello. Che cazzo ti ridi? E poi, la bellissima figa spaziale toscanissima Letizia Puccones. E adesso, gli incredibili tre. A sinistra, Fabio Alisei. Eccomi. A destra, Paolo Noiz. Ciao. E al centro, come sempre, perché lui vuole prendere tutto, mister Marco Mazzone. E adesso, mi faccio un buco sul petto con questo fucile a pallettoni e iniziamo. Perché? Perché soffre prima? Soffre prima lui. Prima dell'impasto. Ma al pensiero. Si suggestiona. È lo sforzo del suicidio. Hai parato sulla sigla, sei morto. Nel mondo che non ha regole. Ho ucciso per molto meno. Con l'orango time, 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 con l'orango time. L'ho buttata per terra e l'ho rimessa in bocca, dai. I piedi della leotta sono stati. C'è la leotta. E sta distorpiando. Lo ZOBI 105. Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno. 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 Questa è la campana stronza comunque. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Devo lanciare un messaggio a mia moglie, spero sia sveglia. Amore, ti prego, arriva presto. Mi stanno rovinando la vita. Ieri, vabbè, per tutta una serie di robe sono dovuto andare a ritirare una parte del mio premio. In gettoni d'oro. Si, i gettoni d'oro. Si, i gettoni d'oro. Non li ho presi alla fine. Gli ho lasciati lì. No. Che cazzo fate in giro con i gettoni d'oro? Ma scusa era bello tu che vai in giro per Milano col forziere. Si. Cercando un arcobaleno. Milano poi è una città sicurissima. Andare in giro con dei gettoni d'oro. Con la sciabola e la benda sull'occhio. Forza. Ho lasciato. Ho lasciato giusto una manciata. Il resto se l'è inculata tutto il nostro manager. E com'è giù. Devo farlo. Ho capito. Io mi sono fatto un culo così. Quello bello seduto. Guarda la televisione. E mi ha inculato una parte. Posso dire. Non sei mica pagliaccio. Eh. Eh. Giustamente. Pezzo che ricordi. Poi. Poi. Il signore qua. Ex obese. Pagliaccio man. Mi ha portato a cena. Mi ha dilaniato. Dove siete andati? Se andate a mangiare in un cinese. E ha pagato il manager. Con i miei gettoni d'oro. Ovviamente. Leggermente costoso. Leggermente costoso. Poi dico. Vado finalmente a dormire. Mi chiama Rovazzi. Sono sotto casa. Cosa fai? Vieni. Andiamo a bere una roba. Vabbè. Mi carichi in macchina. Mi portasi nella terrazza. Mi sono ammazzato di gin. Ma io ho scoperto. Che tra l'altro. In vacanza. Ho scoperto. Che Rovazzi è un perversone. Io non l'ho pensato. Ho visto che fa tutte queste cose. Con Orietta Berdy. Che ovviamente. Cioè. Voglio dire. Ma non si fa a Orietta Berdy. No. Ma è una cosa per famiglie. Capito. Cioè. Una signora di una certa età. No. Ma io ho precisone. E invece ho scoperto. Che seguendo le mie vacanze in Giappone. Mi scriveva. E mi chiedeva di mandargli le foto di tutte le zoccole giapponesi che trovavo. Ma non so se questa cosa te potevi dire. Ma sì. Non la potevo dire. Ritratto. Me la sono inventata adesso. L'ho inventata in questo momento. Ero a corto di argomenti. Ma scusa. Sei già andato via dal ristorante che eri completamente ubriaco. Corretto. Sono arrivato a casa. Sono riuscito a fare una telefonata pseudo normale con mia moglie. Ero già quasi nel letto. E trrr. Oh. Sono qua sotto. Sai che c'è la vocina da Paperino. Ho scoperto che Rovazzi è nano. Non è nano. È nano. Allora. Rovazzi è affetto da. Nanismo. Nanismo. Però è alto. È nano più alto di sempre. Allora. Facci caso. È un fatto di proporzione. L'altro giorno l'abbiamo chiamato. Ha il volto. Da persona normale. Da nano. Da nano. Non voglio essere offensivo. Non è mica un'offesa essere nano. Nei confronti delle persone affette da. Ma perché? Cioè. Perché danni del Rovazzi ai nano. In generale dici dal dei Rovazzi a uno. Sì. Rovazzi è una persona di quelle lì. No. Però. Che è rimasta un po' lunga. Sì. Le proporzioni sono quelle. Facci. Facci. È vero. È un nano alto. È un nano alto. Un nano gigante. Sì. Bravo. È un nano gigante. Ma perché? Tu stai zitto. Suma. Tu sei un bambino. Tu sei un bambino. Sei un foglio di carta. Tratto. Un bambino in due dimensioni. Sai che ti manca un filo. Sei un tampax. È alto così. Magro magro. Di che ne voglia. Ti giuro. Di infilarti nella vagina cinque giorni al mese. Però è un bravo ragazzo la fila. Sì. Infatti morirà presto. Bravo ragazzo. Allora. La Puccioni stamattina. Giusto per rovinarmi la mattinata. Mi ha portato un quotidiano. Cos'è? Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera. Sì sì. Che ha fatto un articolone. Tra l'altro riporta questo studio fatto dalla Gabanelli che io stimo tantissimo. È una rubrica della Gabanelli. Anche se è una sinistroide del cazzo. No scherzo. Però è molto brava. È una rubrica infatti. È una rubrica. E praticamente hanno fatto questo diciamo un esperimento social con i social utilizzando TikTok. Che bravi. No. Tutto da soli. No no. Ascolta cretino. È una roba. Sì. Allora. Praticamente per sintetizzare il tutto che è un po' lungo. Lei ha preso un telefonino nuovo di pacca vergine. L'ha connesso a una rete wifi dell'ufficio diciamo. A Babbo. Poi ha preso il suo telefono e l'ha connesso alla stessa rete. Ok. Ha fatto delle cose diverse su entrambi i telefoni. Sì. Che non si conoscevano i telefoni. Perché uno era vergine. Non si erano presentati. No. Cioè non c'era nessun tipo di connessione. Lei non ha caricato nessun profilo. Però hai dimenticato di specificare che ha invece caricato un profilo. Sei iscritta a TikTok. Sì. Stavo arrivando lì. Sei iscritta a TikTok. Ma il telefono però era vergine. Un telefono vergine. Vuole sempre venirti sopra. Eh lo so. È così. Ma queste donne qua del nuovo millennio sai che ci vogliono schiacciare. Vogliono dominarci. Si vede che non ha il pene. Eh sì. Una volta volevano la parità dei sessi e adesso ci vogliono schiacciare. Vabbè andiamo avanti. Lei ha preso un telefono vergine. Il telefono suo sì. Connessi tutte e due la stessa rete o entrambi i telefoni avevano TikTok all'interno e praticamente se tu facevi delle cose, delle ricerche su TikTok di un telefono appariva la pubblicità sull'altro. Cioè non so tipo la ricerca era un marchio famoso di televisori Samsung sul telefono vergine ti appariva la pubblicità della Samsung sull'altro telefono senza che fossero connessi. Quindi vuol dire che la pubblicità occulta che ci mandano studiando le nostre abitudini non è collegata al nostro profilo ma al nostro indirizzo IP. Esatto. Allora basta che mi connetto da casa di un altro. Allora aspetta perché noi ogni volta che ci scriviamo a questi social firmiamo anche i termini d'uso. Accettiamo i termini d'uso e le condizioni sulla private. I termini d'uso sono due. Uno dice non devi pagare per l'uso della nostra piattaforma ma in cambio veniamo pagati da terzi affinché ti possano pubblicizzare o vendere prodotti. E il punto 2 quando pubblico un contenuto sulla piattaforma rimane il titolare dello stesso tuttavia potremo mostrarlo ad altri utenti e utilizzarlo per consentire la fruizione della piattaforma così come altri utenti potranno a loro volta utilizzarlo. laddove tu decida di rimuoverlo successivamente. Accetto 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 troppo lungo accetto. Esatto. Copie dello stesso realizzate da altri utenti potranno comunque essere visualizzate. Scorri 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 in basso scorri scorri. E in fondo c'è Cabilami milionario. Esatto. No vabbè ma Cabilami no. Cabilami parla adesso. No vabbè si fa cos'è Italia's Got Talent. Italia's Got Talent fai parla. Ma perché? Cioè io dico sei bravo a fare quella roba lì. Non possiamo dire la definizione che ha fatto il nostro manager di Cabilami. No non possiamo darvela no. Quanto è bravo. Quanto è bello. Però nel senso cioè perché perché diventa famoso uno che fa un gesto cioè rimane lì quella roba. Non ha fatto altro. No però lui ha utilizzato i contenuti di altri. Sì. Commentando uno striscia la notizia. E' un reaction alla fine. E' un reaction. E' un'azione. Non è un talento. E' una cosa altissima. E' la reaction unita alla grande arte di Charlie Chaplin. Ma vai a fai. Vai cabi. Ma vai a cagare. Ma lo difendi. E beh si giustamente. Tu sei un altro parassita che la società giustamente. Bill Gates ha detto che lui assume solo persone pigre perché avranno l'idea più veloce. c'è un sacco di merda ciuma. C'è un sacco di merda ciuma. Però lui ha avuto almeno ha avuto l'idea capito? C'ha avuto l'idea e lui dice oh cazzo c'ho l'idea faccio così con le mani divento migliardario. Ma in realtà io non credo che lui abbia avuto l'idea sia stato l'unico. Secondo me c'è un modo per promuovere alcuni personaggi a rispetto di altri. Cioè nel senso, com'è che alcuni emergono e altri no? Eh, perché me l'hai detto tu ieri che adesso devi pagare Adesso sì, adesso devi pagare Allora, per esempio, io da quando ho fatto la porcata sulla sabbia e pesci Sono cresciuto tipo di 50.000 follower Ma non sono pochi No, 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 io tra l'altro ho detto a mia moglie Controllami il telefono e poi non le ho lasciato il telefono E quindi ovviamente era fermo Un coglione Un bacchione Sono salito, sono quasi arrivato a 500.000 follower Che è un bel numero Vabbè, certo Da quando sono arrivato a 498.000 Non sale più Posso postare mia moglie che si infila un tir nella fregna E proprio niente proprio Hai postata? No, no, no È curioso Lo tengo, lo tengo Per 500.000 Se salgo di 2.000 follower metto il video di mia moglie Che si infila un tir nella fregna Allora, se arrivo a 200.000 al tir lo guido io Fabio Lisei No, allora ho detto la puccione Ma che strano, cioè veramente non mi aprono più i canali Mi ha detto no, perché devi pagare, devi pagare adesso Adesso devi pagare Ma anche se ho la spunta blu da sempre Sì Perché? Scusa Perché si sono inventati questo simpatico metodo Funziona così Ma anche la piattaforma dove si vendono le cose che Paolo ha venduto Vinted Vinted Esatto No, no, sono d'accordo Però per quanto riguarda i social in teoria se non c'è di mezzo del denaro Cioè se non stai facendo promozione a qualcosa No, c'è di mezzo del denaro Per loro ma non per te Allora più spazio Ah beh tu dici se uno ha tanti follower poi guadagna soldi di conseguenza Io ad esempio ho fatto Trenitalia Pro e mi fa vedere tutti i treni Non solo quelli che dice lui Vado e li vedo tutti Guarda che anche lì c'è un metodo bosco È che tu cerchi un treno, te ne dimentichi, torni tipo dopo 20 minuti E il treno costa 20 euro in più Ma quello lo fanno anche con gli aerei i figli di puttana Ti dicono vuoi che ti tenga prenotato il biglietto per 10 minuti? Andato Senti invece noi siamo un po' più attaccati alle cose vecchie, anziane, vetuste insomma Noi siamo dei vecchi ormai alla fine Ma tu padre Ma sì dai Guarda stavo guardando il video di un tizio che diceva Cazzo ho 50 anni, l'età media è 76 anni Eh sì Quindi mi rimangono pochi anni davanti a me Eh un terzo 26 anni di vita E lui dice io ho una riga di cose lunga così da fare Sì Ma lo spazio per farle è sempre più ridotto Eh il senere è farle più piccole Quando c'è una riga di cose davanti Però ragazzi noi che siamo ormai quasi tutti i 50 anni Siamo oltre la soglia Voi sì Ti manca meno tempo di quanto hai già vissuto Fabio Sì Beh non è detto io camperò a 100 anni No Essendo una persona orribile No Io ho fatto un calcolo Il diavolo mi terrà qua Ho fatto un calcolo e grazie a degli ingegneri Credo di poter portare la mia esistenza fino ai 184 anni Ma Paolo ti è venuto un ictus sull'isola dei famosi Dove andare A 40 Ho rotto due ossa camminando Sei caduto da un palco Io credo che tu abbia Guarda che hanno già insertato dei chip nel mio corpo Sì eh Sì dei piccoli uccellini Cosa fanno? Cinguettano Cinguettano Dici i puccioni Cosa c'è? No c'è una serie se non sbaglio su Netflix Dove la nuova frontiera dei ricchi È quella di comprare il tempo Sì Quindi fondamentalmente uno decide Io povera ti vendo gli ultimi miei Tipo dai 60 agli 80 Come fa a passaglielo il tempo scusa? Ora ho visto una serie Cioè nel senso fiction no? Ah pensavo fosse una roba No è una serie nuova Perché la nuova frontiera Ormai puoi comprare qualunque cosa L'unica cosa che ti resta è il tempo Il valore aggiunto Beh Dan Bezirian si chiama Bezirian Dan Bezirian Quello vale 350 milioni di dollari circa Lo hanno intervistato E lui ha detto In realtà i soldi non comprano la felicità Certo I soldi ti comprano la libertà Questo è circondato da ficca No ma lui dice Allora Io mi sono comprato Dice ho comprato una Ferrari l'altro giorno La felicità è durata 24 ore Poi me l'ho rotto il cazzo Perché Che palle Cioè ormai posso dice Posso comprare tutto quello che voglio L'unica cosa Che ti dà il soldo Rispetto a uno che non ha i soldi È la libertà Perché tu sei libero Di dire oggi non ci voglio di fare un cazzo E non fai un cazzo Mentre quello che deve portare Il piatto di pasta a tavola È di andare a lavorare per forza Io ad esempio ho contattato la Sacla Per farmi mettere sotto aceto Intorno ai 72 anni Quindi Sai che ti ciuccio Se sono ancora vivo Ti compro e ti ciuccio E ci vinco Masterchef Aperitivo per sempre Io voglio essere messo In questo dorme Bannatolo di dentro Con la vite Io ti porto a Masterchef E vinco In piazza affari Vabbè iniziamo C'è chi l'ha visto Anzi chi l'ha svisto Purtroppo è sparito Un tiktoker molto famoso Parlevamo di tiktoker Scomparso Scomparso Sentiamo cosa è successo Vai Rice Fiction La casa di produzione Che ingaggia un solo attore Professionista E lo circonda di incapaci Presenta Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Se avete tra gli undici E gli undici anni e mezzo Sicuramente avete sentito parlare Di buffo scemo Al secolo Leolardo Zampino Il tiktoker vicentino Che ha superato I 40 milioni di follower Grazie ai suoi simpatici video In cui finge di intervistare Gli stronzi Che ha appena cagato Purtroppo Dalla sera Dello scorso 8 settembre Di questo popolarissimo Genio del micrometraggio Fecale Monetizzato Approfittando delle idiozie E del deficit di attenzione Delle nuove generazioni Si sono perse Completamente le tracce Ma chi era in realtà Buffo scemo? Andiamo a conoscerlo meglio Nato a Vicenza Il 3 febbraio Del 1900 Leolardo È figlio di Gianprepuzio Zampino Un addestratore Di scorregge Che ama disegnarsi Simpatiche ghirlande Di cattitume fatti Sulle piante dei piedi Ed il clitofragola Diavolo fesso Una decoratrice Di bestemmi E già tre volte Campionessa italiana Di dattilografia Clitoridea Che brava Una telefonata Dalla redazione Sono Piero Pelù Ah buongiorno Signor Pelù Ma 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 Iu In che senso Scusi? Madrena Madrena Lei ha informazioni Proibito Pro pro Pronto E poi Gigo Renzulli Sta spruzzando De donate Pelo di formiche Che cazzo Va bene Riprenderemo La telefonata più tardi Nei suoi primi anni di vita Leolardo ha la fortuna Di crescere in un ambiente Sicuro e protetto Circondato dall'affetto Dei servizi sociali E della polizia municipale I gemitori sono infatti Agli arresti domiciliari Fin dal giorno Del suo concepimento Avvenuto in Mondovisione Durante una puntata Di giochi senza frontiere Alla quale i due Stavano partecipando Come concorrenti Prima di venire squalificati Per aver scopato Durante la prova Degli elefantoni gonfiabili Con i suoi 60 milioni Di abitanti Vicenza è una città Che offre infinità Le possibilità Un giovane intraprendente E pieno di risorse Così Divenuto abbastanza grande Da arrollarsi le canne da solo Leolardo lascia la scuola E inizia una florida attività Di truffe agli anziani Si pronto E la Scozia? Milano Milano Bella Ma non ci vivere Milano Venezia Si Stupida Pescara 12 12 cosa? Bari Io non colgo È una cosa che non conosco Perché sono troppo giovane Esatto È l'intervallo Che cazzo È nato Arrestato dopo una sola settimana Trascorre due lunghi Pronto Vuoi smettere di bere? Perché? Non bevo Vuoi smettere di fumare? Non fumo Vuoi smettere di farti? Non mi faccio Vuoi smettere di fare? Eh Vuoi smettere di smettere? Anche Chiama A tavola Mi scusi Perché sono in smart working Arrivo cara Ci chiamo dopo Siamo una folia Sono i smart working Qualcosa che non vaga Cosa stiamo facendo? Che cazzo stiamo facendo? Vai avanti Abbandonato il settore delle truffe agli anziani Concentra tutte le proprie energie Nello spaccio di stupefacenti Per farlo si fa venire in mente una trovata geniale Crea un canale TikTok Sul quale col pretesto di intervistare Per motivi comici Gli stronzi che caga Fornisce dettagli sulla propria merce Che poi i potenziali acquirenti Possono comodamente ordinargli Nella sezione commenti Con sua grande sorpresa Il canale diventa un fenomeno mondiale E in meno di tre mesi Gli introiti derivanti dalle visualizzazioni Arrivano a superare di molti Quello dello spaccio Sì da la redazione Ehi Sono pedofonzi Non trovo più lavoro Ho un ordine restrittivo Sì, sì Pedofonzi no Nonostante sia divenuto ricco Leolardo decide di continuare a tirare su Qualche soldo in più con lo spaccio Ovviamente non passa molto tempo Prima che le autorità si accorgano della cosa Arrestato e processato per spaccio internazionale Con l'aggravante fecale È condannato a sette anni di carcere Due dei quali da scontare su una gamba sola Quella dannata sera Dello scorso 8 settembre Leolardo stava appunto tornando in galera Dopo un permesso premio Concessogli per andare a controllare Se aveva chiuso il gas prima di finire in manette Fermatosi in tabaccheria per acquistare Un pacchetto di caramelle e un grattevinci Dopo questo episodio di lui Si sono perse completamente le tracce Noi di chi l'ha sbisto Siamo andati quindi a intervistare Tizio Sempronio Il tabaccaio che è stata l'ultima persona A parlare con Leolardo Ciao sono pedofonzi Ho trovato lavoro Presso un tabacchino Ho un ordine restrittivo Si E me lo ricordo Faceva delle strane facce Come se gli scappasse da cagare Entra e mi chiede un pacchetto di caramelle Io ero impegnato lì Con dei miei amici piccoli No E poi mi chiede un grattevinci Poi si mette in un angolo Gratta 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 All'improvviso fai Si si minchia ho vinto pedofonzi Hai un ordine restrittivo Ho vinto due milioni di euro A grattevinci E poi corre via in direzione all'aeroporto L'aeroporto è proprio dove c'è l'asilo No Il presente è la materna Dietro E come se andasse a scapparsela a Cuba Ma la gente è stranissima comunque Sono pedofonzi Ho un ordine restrittivo E da fastidio la caviglia magnetica Questa che avete sentito È l'ultima testimonianza su Leolardo A nostra disposizione Le autorità per il momento Non si sono pronunciate Ma l'ipotesi che sembra farsi sempre più largo È che il giovane sia stato mangiato Da un'iguana gigante O un altro rettile di notevoli dimensioni Perché? Noi di chi l'ha svisto però Non ci diamo per vinto Oh bravo Per questo lanciamo un appello a voi Cari spettatori Chiunque avesse qualsiasi informazione Vera o inventata Che possa aiutarci a ritrovare Leolardo È pregato di scrivere immediatamente All'indirizzo mail della nostra redazione Che è Al contadino non far sapere Quanto frumento ti infili nel sedere Chiocciola a chi las visto Punto in Alla prossima puntata Questa l'hanno capita solo il cinquantenne No l'abbiamo registrata credo poco Prima di partire per le vacanze No questa è stata appena tornata E vedi uguale Il primo giorno che siamo tornati in radio Allora è l'effetto delle vacanze È abbastanza Però guarda che è curioso Perché Cioè sta cosa se la ricordano in pochissimi Infatti Lucilla non la capiva Che non era poi l'intervallo Quella roba Ragazzi Lucilla gli piace Wender Cioè capisci che No però è una cosa che in televisione Non si vede più a 30 anni Sì ma in generale Una che dice che Wender è bella è un problema Cioè la Rai una volta Quando non sapeva come riempire il palinsesso A un certo punto partiva sta canzone Pepepepe No quello Quello era l'almanacco del giorno dopo Ah è vero Andava su Rai 1 Dieci minuti prima del telegiornale Vero è vero E poi a un certo punto c'era E il meteo Uno che le cava la figa No era il meteo C'era un uomo con la barba È vero E dietro c'era quello che le cava Ma l'almanacco L'almanacco ti diceva I Santi Mi ha aperto una finestra gigante Sulla sala di mio nonno Mio nonno Medardo Un uomo straordinario Che a un certo punto ha conosciuto Ha imparato a usare la malta Il cemento E ha iniziato a incementarsi qualsiasi cosa E a un certo punto Aveva il televisore Sai in televisione una volta non avevano il telecomando Avevano i manopoloni Aveva il volume e i canali Si è rotto il manopolone del volume Lui ha preso il cemento armato E l'ha attaccato al televisore col cemento Quando ad un tratto Arrivò il dragone ciccione Ciao sono il dragone ciccione Spunto fuoco E dalla foresta Spunto la libellula ciccina Eh sono la libellula ciccina No no il fuoco del dragone ciccione No Ascolta Io credo a tutto quello che dici Ma è la verità È soltanto per scena Mio nonno a un certo punto Si è appassionato di cemento armato Ha cementato anche la marmitta della macchia Non sto a scherzare Se l'ha rotta la marmitta L'ha incementata Poi gli è caduto un ponte in bocca E ha messo il cemento in bocca Che gli è venuto Giuro Cazzo chiamiamo mia mamma Te lo dice anche lei Andando ad un tratto dalla foresta Spuntò anche il verme Mio Dio Eh sono il verme Non ho capito come mi chiamo Mio Dio Quello lì sì C'è qualcuno che si vuole cementare il buco del culo Ah sì Il nonno di Mazzoni Andiamo dai Ma dai veramente ma il cemento in bocca Te lo giuro Vabbè io conosco uno che si è messo la colla in bocca Ma lo conoscete anche voi Chi è? Vi ricordate che gli cascò la protesi in diretta Ah con l'inglese Come si chiamava? Cazzo faceva Radio Monte Carlo Sì 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 Come si chiamava? Che faceva Chi? Clive Che faceva il corso d'inglese Sì Che a un certo punto C'è la registrazione Gli cade il ponte Abbiamo dei problemi con i ponti Che non erano i ponti radiofonici E poi con l'attacca si era ritaccato Infezione L'attacca sulle gengine Sì Vabbè ma ragazzi ma ognuno di noi ha fatto gli esperimenti Ma quello lì è il ballant Cioè per esempio Paolo è gasatissimo del nostro manager Che in realtà non è un uomo No stupendo È stupendo Sì Dico un po' cofio Praticamente lui deve mangiare qualsiasi cosa Arriva con una velocità folle Quindi Senti questi rumori qua a tavola E' bello che il vostro destino sia nelle sue mani Ma come mai avete scelto Ieri è partito da Lo sozzo Perché lui è di Bologna Lo sozzo Non è Bologna Lui di Imola Lo sozzo adesso prendiamo il van Sai che c'è Uber che ti dà il van nero Lo sozzo prendiamo il van Perché tu sei il mio artista e robe Dal van si è passati alla macchina normale Poi al taxi Non c'era neanche il taxi Poi siamo passati al motorino Alla fine Io ho una bicicletta Sai le biciclette quelle? Si è passi a piedi Che roba sarà La sua si è spenta Lui aveva il monopattio Si è spento È arrivato al ristorante così Scusami Ma se non va Lascialo lì Ma sozzo No perché vedete che adesso parte Che sono nella zona pedonale Si è fatto 22 km Trascinando uno scooter Perché? Ma lì Secondo me è molto appassionato di fica Ma molto appassionato di fica Allora abbiamo una cosa in comune Come vede una donna Come so Ah come quando ha fame? No e poi fa Sozzo che telaio A lei proprio dice Ah sono in telaiato Telaiato Allora Finca le puttani Deve non pagare Il giorno vi diremo Come definisce Cabilame lui Però Sarà il giorno in cui Chiuderemo il programma Si e lui finisce la gare Eh si Lo continuerà Cabilame Pensa la cosa Senti velocemente Velocemente Perché abbiamo poco tempo Io la Pucciola Mi abbiamo discusso su una roba Allora Spagna Passante tocca al culo Di una giornalista in diretta Arrestato Vabbè è giusto Però io ho domandato La signora Puccione Che è comunista Femminista Tuttoista lei Secondo me è anche fascista Paolista Anche paolista Sì 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 Tutto Aspetta Le ho detto Spedenza un attimo Bella Non era finita È la cicolante Grazie ragazzi Sono io Se dovesse succedere il contrario Cioè se un uomo Un giornalista Sta facendo il suo servizio In diretta televisiva Passano da ogni tocca al culo Che reazione ci sarebbe Beh in teoria dovrebbe essere la stessa no? Ma poi dipende da Sempre da chi riceve Tale comportamento Sì la puzza di merda No no aspetta Aspetta Il gesto è sbagliato a prescindere Il gesto è sbagliato a prescindere Di conseguenza A me dà fastidio la gente che mi tocca Cioè quando le persone mi toccano Quando parlo mi dà fastidio No sai se ti tocca qui Vabbè ma non è che uno Non è che gli ha infilato un dito nel culo Cioè gli ha palpato una chiave Quello dei maneskin è capitato In un concerto Un dito in culo A me succede Sì Ma gli sarà anche piaciuto Dipende a quale dei maneskin Ma forse un po' a tutti A me quando dirigo l'orchestra della scala Soprattutto quando dirigo Berlioz Capita che queste signore di 70 anni Con l'armellino al collo Mi infilino le dito nel culo E ha fastidio terribile Perché mi distrago Perdo il rigo Poi lovo e sbaglia Non ho mai diretto Berlioz alla scala Ritratta Non sono io in questa foto No 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 Ritratta Vabbè quindi finisci Abbiamo detto che la posizione Deve essere la stessa Eh no però tu prima non hai detto così Hai detto no è diverso No io ho detto che nessuna donna Tocca niente Ma non è vero Non è vero Guarda che io sono bersagliato Continuamente sui mezzi pubblici Non è vero Continua ad approcciarmi La passera alle dita Paolo Noiz Quando è uscito dal programma Sabbioso Sabbioso con i pesci e le puzze Io posso dirti Marco te ne accorgerai anche tu Appena avrai a che fare Con una 75-80 anni Ci provano vero Ma pesantemente Perché il target Che guarda quel programma lì Eh sì Parità deve essere parità Eh infatti lo è Eh ma non è così Non è vero Ma dov'è Eh Dov'è che non c'è la parità Nella percezione Perché alla fine No se toccano Paolo Tutti ridono Se Stefanina mena Paolo Tutti ridono Capito Se invece È una donna È somenata Giustamente tragedia Ma l'uomo fa ridere Quando subisce Quindi è la percezione Che è sbagliata Ma se l'uomo denuncia Allo stesso trattamento Ma se l'uomo denuncia Tutti ridono Tutti ridono Pemminuccia Femminuccia È un problema vostro Vedi che è un problema vostro Ma no Sì Sono i pregiudizi Anzi i stereotipi Facciamo l'esperimento No 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 Vai di là E tocca il pene Quindi bisognerebbe Cancellare il termine Sesso debole Non dovrebbe più esistere Il sesso debole Perché no Bisognerebbe cancellare Gli stereotipi Ho capito Ma è vero Che se una donna Se Stefanina picchia Paolo Ridono tutti Se Paolo picchia Stefanina Tranne Paolo Tranne Paolo A parte di Nel senso Ma c'è differenza Non c'è differenza Se Stefanina picchia Con la stessa cattiveria Con cui sicuramente Magari è meno forte Non lo so Non c'è differenza Cioè è la violenza In quanto vale Però ragione Mauro È la percezione Però aspetta Io non ho capito Quando si può scommettere No mai Ma che momento Io posso metterci 20 euro Partendo dal presupposto Che le mani addosso Non si dovrebbero mettere E un uomo che picchia una donna Deve andare in galera E marcire Perché deve prenderlo a schiaffo Esatto Anche una donna Che picchia un uomo Se lo picchia malamente No io mi diverto Come? Appunto Se mi diverte Io ho un altro discorso Ragazzi Ha ragione Mauro Mauro No perché poi da lì Siamo arrivati al discorso Del tipo Ho un amico Che lavora per una grande azienda La multinazionale Quest'estate mi dice Sai quest'anno Dobbiamo assumere altre 12 persone Di colore A me sta Perché di colore? Cosa vuol dire? Cioè se un'azienda Ha necessità di assumere Delle persone Non devi È razzismo No non è razzismo È razzismo Perché sono state discriminate Fino a ieri Ma non dire carino In America no No scusate ragazzi Allora Tutto dipende dalla tappezza Tu assumi 12 persone brave Non 12 persone di colore No Che il colore sia bianco, verde o giallo o blu Non cambia un cazzo Non è vero Ma se in una società C'ha bisogno delle quote Nere, rosa No Dipende da come hai rifatto gli interni Ma allora Se tu hai messo un perla Sta bene la persona di colore Voi state litigando di questa cosa Sulla razza Cazza Sul sesso E nessuno di voi Cioè si chiede Che cazzo è il topinambur È vero Cos'è? Cos'è il topinambur Credo sia una specie di tubero È un tubero Io lo so Perché dovremmo domandarcelo? A tutti si dovrebbero chiedere Che cazzo è il topinambur Perché hai cambiato blocco Adesso vengo di là Ti pesto Perché sono le quattro e venti Non importa Non ci stiamo Metti Franco Farm Scusa Non ci sta Ci sta Ci sta Dico io Quattro e venti Ma ci sta Dico io Il secondo giorno Fai quello che dico io Dai Capisci che tu non sei donna E siamo due uomini Due uomini che si picchiano Ancora è consentito Perché devi costringermi A venire di là e spaccarti Vai vai e spaccalo Cambia Cambia Non possiamo Hai visto come la fa Franca Il topinambur Hai visto? Perfetto Ci stiamo Ci stiamo vai Mandala Stiamo perdendo tempo Vai Vai Ogni giorno nel mondo Milioni e milioni Di persone Ma soprattutto Wender Presto anche Mazzoli Per non parlare di Pellecchia Soffrono a causa Della sfoltazione E cadutazione Del manuto capelluto Che inizia con una diradazione Fino alla calvizzazione totale Queste persone Cadono in un vortice Di depressazione devastante Che li porta Pian piano All'isolamento Ed infine All'ingrassazione Da gelato sul divano Guardando Scadenti telenovelas È ora di dire Basta 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 La Franco Farm Prestigiosa azienda leader Nella falsificazione Di carte dei Pokemon E nella distribuzione Di caramelle fuori dalle scuole Ha brevettato un farmaco In grado di rigenerarvi Una chioma Da fare invidia A Elvis Presley Capellona garze adesive Cento pezzi Capellona garze adesive Cento pezzi Si presenta sotto forma Di simil parrucca Con base simil adesiva Alla quale sono attaccati Dei simil capelli Recuperati dai simil pavimenti Di simil parrucchieri In comoda confezione Da simil cento pezzi Vi basterà applicare Una garza Sulla vostra pelata Ben lucidata E in men che non si dica Avrete una chioma Foltissima E invidiabilissima Capellona garze adesive Cento pezzi È un prodotto Franco farm Attenzione L'uso prolungato di capellona Garze adesive Cento pezzi Può provocare effetti collaterali Devastanti Come Unghie dei piedi Antiproiettile Scomparsa istantanea Dei tuoi indumenti E conseguente nudità Ogni volta che sali Su un mezzo pubblico Per sempre Irrefrenabile Istinto a urlare Fermi tutti Questa è una rapina Ogni volta che entrate in banca Capelli prensili Un Robocop che vi sveglia ogni mattina E al grido di Vivo morto tu verrai con me Vi trascina sul posto di lavoro Fazzoletti di carta vetra Ogni volta che vi soffiate il naso Piedi troppo piccoli Per poter stare in equilibrio Additato con fare minaccioso Da qualsiasi bambino Incontrate per strada Perdita di memoria Ogni volta che vi presentate A una bella fica Clamoroso scambio di persona Che vi vede comparire nelle foto Tra i dieci più ricercati al mondo Dall'FBI Comparsa di un secondo buco dell'ano Parlante Con il quale affrontate discorsi filosofici Ogni giorno alle tre del mattino Multato per occhiali da sole Fuori moda Svegliato nel cuore della notte Dal fantasma di tale Gennaro Esposito Detto Osh core June Per sempre Mani a frisbee Sempre ruote bucate In tutti i mezzi sharing Che noleggiate Una visca clandestina Che ha come ingresso segreto La porta del vostro armadio E conseguente Via vai Continuo Di persone Per tutta la notte Un Doc Brown Che ritorna dal futuro Tutti i venerdì Per dirvi Quanto siete stronzi Scendi le scale E in culi Pasquale Sempre Io sono compreso Gambe di velluto A costine Anni 80 Morte per scaramanzia Hai capito Pelatone depresso del cazzo Da oggi Potrai avere anche tu Una chioma devastante Senza più vergognarti Grazie a Capellona Garze adesive Cento pezzi Capellona Garze adesive Cento pezzi È un prodotto Francofarm Francofarm E con la prima confezione In regalo Un mallet Con i baffi Per feste tedesche Anni 80 Bello Io voglio le gambe di velluto Con le costine Che bello Sempre di moda Le feste liceane Allora devi togliere Quelle da domino Dai però è tardi Su Ma vai Sbrigati cazzo Allora La Puccioni Stava parlando Di una roba Che già stamattina Io e Paolo Abbiamo tritato E ritritato Il governo messicano Ha mostrato delle immagini In Parlamento Erano Il governo Un ufologo messicano Al congresso messicano Ha mostrato I cadaveri Di due alieni Ma li ha mostrati Ne si sono portato I cadaveri Ha portato I cadaveri Mumificati Trovati E Nazca Dal Messico E T che manda un bacino Sembra Posso vedere C'è la foto Sì è mumificato È mumificato Immagini anche Delle radiografie Invece di fare la scena Uffa Uffa Ci sono anche le immagini Delle radiografie Diciamo che lo scheletro Non è assolutamente umano E T ben conservato Guarda che ci sono anche Le radiografie Va bene Ma ragazzi Ci sono anche Annalisi delle urine Di fronte alle foto Alisei deve dire di no Ma le foto In tempi di photoshop Di tutto Ma cazzo Hai letto l'articolo Hai visto il video L'intervento È un giornalista Dell'ufologo Direttore del programma Blablabla Fa discutere Siamo visitati Da intelligenze non umane Che vengono sulla terra Dalle profondità Dell'universo Ma io dico Lui ha portato Questi cadavere Questi cadavere Ok Sarà arrivato un biologo E li avrà analizzati Li avrà analizzati Aspettiamo il biologo Aspettiamo il biologo Il biologo dice Sì effettivamente Ragazzi Ma non credo che Cioè tu dici Che hanno pubblicato La notizia Prima di fare le dovute Allora la notizia È che un tizio Un ufologo Ha mostrato Due cadavere Questa è la notizia Poi tutto quello che succede dopo Succederà dopo Paolo Paolo Non c'entri a fare Lui vuole Il raggio laser Sul tetto di casa Cioè vuole quello Capito Fammi comprare Le tue porcherie Ma cosa c'ha Due fuori Cosa c'ha No Non si vede Ma magari C'è un racciolo deforme Magari Ma no Si vede Che non è umano È una roba Tutta mezza storpia È come ti È come ti Assomiglia a ti Alla testa un po' bislunga Collo lungo Vabbè l'ho trovata online Ed è nudo Eh sì Beh l'hanno spogliata L'hanno spogliata L'hanno spogliata Ha spogliato La mummia In effetti Perché è nudo Vabbè che magari Non hanno esigenze Allora commentiamo le immagini Come si fa Vediamo Vediamo E ti non era vestito Sono molto piccoli Sono piccoli Sono piccoli Sono delle mummiette Di micro alieni Sta arrivando anche Mauro Mauro in studio Alti tipo 60 centimetri Ma l'articolo sotto Che cosa dice Sono più o meno alti Come i rovazzi Ok Più o meno Sono dei rovazzi Forse i rovazzi Sono dei rovazzi Esatto La testa un po' bislunga Sono due mummie trovate Due mummie trovate Non si vede un cazzo Però così Eccolo Eccolo qua Guarda Eccolo Adesso fan vedere la radiografia Faranno le analisi E qualcuno ci dirà Se sono veri Esatto Se sono delle riproduzioni E questo Così funziona Ma io non penso Che questo ufologo Sia così scemo Da portare Già uno che si definisce ufologo Già Vabbè L'hanno definito ufologo Sarà uno scienziato Ufo vuol dire Roba Ma com'è che tu credevi Nella scienza Fino all'altro giorno E poi quando la scienza Ti porta delle robe Da vedere Non ti credi più Perché l'ufologia È esattamente il contrario Della scienza Cioè la scienza è quella cosa Che ti spiega Come funzionano i fenomeni L'ufologo spiega Cioè l'ufologo si occupa Di fenomeni Che non si possono spiegare Nel momento in cui Tu li spieghi Non sei più ufologo Ma anche la scienza A volte non si può spiegare No Allora l'ufologo Si occupa di oggetti volanti Che non sai cosa sono Sì Nel momento in cui sai cosa sono Non sono più Oggetti volanti Non identificati Senti Marco Ma allora Siamo tornando di uno Quindi non è uno scienziato L'ufologo Il Parlamento messicano Esatto Ha tirato fuori due feretri Ha tirato fuori due mummie di alieni No due mummie Le ha fatti vedere Le ha fatto le analisi Le ha fatto le radiografie Ha dimostrato che sono degli esseri Non ha dimostrato niente Non hai viste le immagini Coglione Non ha dimostrato Ci sono le radiografie del corpo Sì Ma ha analizzato il corpo Questi sono due alieni No Prego No No Niente No Allora Lui crede a Burioni Capito Cioè lui crede a Burioni E non crede a uno scienziato ufologo Che porta due cadaveri Lui crede a Burioni Sentiamo la stronza Dai Scusa stai parlando con me Dai dai Scema dai No io volevo dire che nel frattempo È stato anche avvistato uno squalo Che ha 500 anni Penso Eh beh ma quello non c'entra con gli alieni C'entra comunque Ma gli squali Sta cercando l'Inps Se non ci fossero gli umani sulla terra Gli squali vivrebbero veramente molto a lungo Il problema è che noi li ammazziamo Ne ammazziamo 100 milioni all'anno Con la madonna 100 milioni all'anno Santissimi 100 milioni all'anno Perché i cinesi che hanno purtroppo il pene piccolo Pensano che all'interno della pinna Ci sia una sostanza che gli faccia venire l'uccello No ma tutti anche noi li ammazziamo parecchie Sì perché facciamo La pesca strascico Prende tutto quello che trova Quello è un altro motivo Ma li ammazzano volutamente La cosa terribile è che i cinesi Li catturano Gli tagliano le pinne E poi li rilasciano in mare Lo squalo non si muove L'altro problema è che c'è sempre meno pesce E i predatori danno fastidio ai pescatori Eh sì Anche l'altro grosso problema Vabbè ma lo squalo mangia poco comunque Che cazzo dici? Ecco per avere quel fisico lì Hai visto che addominali c'è uno squalo? Cosa stai dicendo? Tu non hai visto uno squalo obeso? Perché mangia proteine Gli unici squali grassi sono gli squali balena Che sono erbivoli Parlando di robe invece in casa nostra È successa una roba Stranamente io e Fabio siamo d'accordo Per la prima volta Allora Venezia dice sì al ticket d'accesso in città Partirà nel 2024 ed è giusto Ragazzi noi dobbiamo renderci conto Che l'Italia è Non tutta ma gran parte Un museo a cielo aperto La gente che viene in questo paese Deve pagare per entrare e vedere le nostre bellezze Noi potremmo guadagnare un fracco di soldi Come paese Semplicemente vendendo un biglietto Per entrare in un museo a cielo aperto Venezia è un capolavoro irripetibile E quindi tu stronzo tedesco Tu stronzo francese Ma anche italiano Tu stronzo americano Magari l'italiano No no l'italiano paga Eh no l'italiano Paga pagare pagare Dovrebbero fare uno sconto Come fanno tipo ai parchi divertimento di Orlando Chi vive in Florida lo sconto Se ti chiami Orlando paghi Esatto Però è giusto ragazzi è giusto Se non vuoi pagare Ti vuoi rompere i coglioni Vai a Trento Vai lì Perché è bella A Trento è bellissimo Ma che cazzo dici Hai di dire una cosa che c'è a Trento Madonna a Trento c'è sto porto meraviglioso Porto a Trento? Eh? Il porto a Trento? Ma perché ci sono le astronomi galattiche a Trento Poi c'è questo bellissimo acquario Sì L'acquario di Trento Famosissimo C'è il famoso squalo di Trento Sì sì In realtà ci si fa la schitarrata Sei d'accordo sul discorso di far pagare il biglietto? Sì 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 Anche a Firenze dovrebbero pagare Sì anche a Firenze Anche Siena cazzo Siena è bellissima Ma è Roma Ne abbiamo di città meravigliosa Se ti rompi i coglioni vai a Prato Che non c'è un cazzo Io farei pagare il biglietto anche per assistere a Mazzoli Che picchia tutti i giorni Antonio Summa Quello potrebbe essere interessante È una roba divertente Potresti andare a Trento a picchiarlo Cosa abbiamo adesso? Ah in pubblicità dritti? Eh sì No vabbè ma tu oggi veramente No però dopo recuperiamo Abbiamo un po' di tempo Ci divertiamo Tre minuti Decide lui Decide lui Vado a prendere una mummina egizia Cosa posso fare per cercare di stemperare la rabbia? Mangialo Potresti Summa Scusami eh Allora tu dovresti Visto che sei bravo Credo che ti impegni Arrivi presto la mattina Sei arrivato con due minuti di ritardo E oggi ti pigli due frustate Con la frusta di 105 Però prepara degli spottini corti Delle robe corte Ce li avevamo Però siamo andati oltre Ci siamo andati oltre Se invece di lamentarti Mettevi lo spottino Sta dicendo che noi siamo andati lunghi Capito? No 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 Ma era tutto interessante però Ha tutto Mamma mia Mi sa ancora più di fosse per il culo questa Ma tutto però Tutto Tutto Perché mi sento un personaggio di Fantozzi Non lo so Però adesso Antonio Summa Questo alieno che abbiamo in regia Figlio di Di Maio Assomiglio Sono due piccoli Summa Quelli in Messico Sì 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 Metti la pubblicità Io vengo a trovarti in regia Vado Allora Qualcuno dice che è un fake La roba degli alieni In realtà sono stati esaminati Dagli scienziati Dagli scienziati Della sua stessa università Che sostengono che il DNA fosse umano Però giustamente La Puccione Stiamo parlando di questi due alieni Che ha mostrato questo tizio In Messico In Messico In realtà loro erano peruviani I due ritrovamenti Allora lui li provate a Cusco Esatto In Perù In Perù Esatto Però giustamente la Puccione dice E se il DNA degli alieni fosse uguale al nostro Non sarebbero alieni Beh ho capito Perché no Magari c'è stata un'ibridazione Un'ibridazione Certo Ma è quello che gira Cioè questi due esseri deformi Nani Che sono morti male Sono le uniche due Fabio dice Magari sono due bambini deformi Che sono morti Allora la vita su questo pianeta Arriva dallo spazio Certo E questo è innegabile In macchina No Attraverso Ma anche l'acqua del nostro pianeta Arriva dallo spazio Tutto arriva dallo spazio Quindi l'inseminazione del nostro pianeta È stata fatta in questo modo Ma io ho una domanda Farsi che il seme che ha generato la vita su questo pianeta Sia lo stesso di quell'altro pianeta Ma io faccio la domanda Allora La vita arriva dallo spazio Giusto Quando parliamo di vita che arriva dallo spazio Parliamo di protozoi Cioè di piccoli batteri Allora se fosse arrivato dallo spazio un essere umano Avremmo avuto solo esseri umani E variazioni sul tema di esseri umani Quindi l'evoluzione sarebbe partita dall'essere umano E sarebbe andata in poi Come fa una cosa a tornare indietro? 20 milioni di anni fa è arrivato un essere umano E poi è diventato protozoo E poi è diventato essere umano Non ha senso ragionamento stefaccio Allora se arrivano gli esseri umani e non c'è vita Non arrivano gli esseri umani No Sono abitanti di un altro pianeta Con lo stesso Oh è una ipotesi È un'ipotesi Vale tutto Vale tutto Vale tutto Allora c'è questo ex ministro della difesa canadese Che adesso è in pensione Che ha lavorato anche per la NASA E lui racconta Oh lo trovate online Non mi sembra un coglione C'ha un bel curriculum Ma è in pensione Adesso è in pensione Ma è in pensione Cosa vuol dire? E dice Noi in America Quando lavoravo con gli Stati Uniti Abbiamo catturato un alieno Parla di un astronave Che era caduta negli anni 50 56 se non sbaglio E dice Abbiamo incarcerato Questo In una facility apposta Questo alieno Ma no cretino Questo lo racconta lui Ma sì ma Marco Ma chiunque può raccontare Comunque non so per quale motivo Adesso tutti parlano di alieni Comunque questo qua dice Che praticamente l'alieno Ha parlato della loro tecnologia Che era molto più avanzata E diceva che lui arrivava Da un posto Che era 50 mila anni Luce Più avanti di noi C'era un alieno Con l'affare per la barba E diceva Ce l'hai questo te? Ce l'hai questo Un radibarba C'è un coglione umano E l'iPhone ce l'hai Te Merda Non mi c'hai male Ma va ragazzi Scusa Vai 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 Vada vada Tranquillo No vado io Allora Pensate che bello Se gli alieni fossero Dei burloni Che in realtà Arrivano Lasciano il corpo Di questi due stronzi Che sono due teste di cazzo Che sono morte per cazzino E poi si Rascondono dietro un cespuglio A guardare cosa Ascoltano lo zoo Voi che litigate sugli alieni Potrebbe essere Magari sono dei simpaticoni Perché deve essere cattivo brutto Magari sono tutti fighi Come Brad Pitt Che cazzo ne sai Magari non l'hanno ingabbiato L'hanno tenuto lì Perché era simpaticissimo Questo stava per la base L'hanno ingabbiato Non potevano rilasciarlo Anche no E questa è la merda Perché sono razzisti Noi siamo razzisti Nei confronti degli alieni Assumiamo 12 di colore 12 alieni In una multinazionale Ma la chiedono in carcere Allora Tatto per cominciare L'aliena è arrivato qua Senza documenti Senza passaporto E' già mia giargiana E' già mio immigrato Clandestino Prima cosa Seconda cosa Vieni qua a rubare il lavoro Come tutti quelli Che arrivano con la nave Che sia spaziale Che sia motoscafo Camel barchetta Ferro dai bar E vabbè Altrimenti bomba Come diceva Doc Brown Ne vedremo delle perle Marty Vedrai Come diceva mio zio Tonino Con quel Lì Minchiavola Dire tutto Ma zio Tonino è quello Che ha fatto l'incidente Con la 127 Sì sì No 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 Vabbè comunque Avete rotto il cazzo Abbiamo qualcuno in linea? Che abbiamo? No c'è il momento Di Mauro Mauro Ah il suo momento Oh madonna È bello È bello Una piccola perla In questo programma Cinque tipi di Cinque tipi di Cose Cosa? Oggi di cosa? Ma lo sai che mi piace Fare una premessa Prima di dirlo Eh falla Eh non mi dai la sigla Non so di 105 Presenta Cinque tipi di A cura di Valerio Mauro Mauro Bravo Dai fai la premessa Allora La socialità è un fattore Molto importante Per l'essere umano Siamo definiti Dai legami Che creiamo Ma per quanto Si debba cercare Di avere le amicizie Più interessanti E stimolanti possibili Vi è una figura Che deve essere presente Nelle amicizie Di chiunque Lo scemo Andiamo oggi Quindi a vedere I cinque tipi di scemo Ah beh Lo scemo bene Lo scemo bene Quell'amico Che quando è bisogno Di essere tirato su Di morale È sempre presente Spesso infilandosi Cose nel culo Però è sempre presente Sempre presente Anche quando si tratta Di fare baldoria E lì non lo batte nessuno Vigliacchi a basso prezzo Con tante malattie Alcol scrauso E amici spacciatori Poco affidabili Il meglio per passare Una bella serata In compagnia Piacevolezza Ad averlo attorno Cinque stelle su cinque Numero quattro Come numero quattro Numero quattro Lo scemo male Lo scemo male Quel tipo di amico Per cui l'amicizia È unilaterale Lui ti vuole un bene Dell'anima Tu invece Vuoi solamente ridere Del suo ebetismo Gargantuesco Pompato Dalle risate E la compagnia E dai loro consigli Lo scemo male Andrà a provarci Malissimo Con la figa Del locale Con frasi Terribile Sgradite Come Piacere Io mi occupo Di infestazioni E posso garantirti Che una topa Come te Non l'ho mai vista Tutti ridono Pure lo scemo male Nonostante il segno E le cinque dita Che gli ha stampato In faccia La ragazza Piacevolezza Ad averlo intorno Cinque stelle su cinque Io sono lo scemo male Lo scemo intellettuale Eccomi Fabio Quando il vostro amico Vi invita a vedere Un film israeliano In lingua originale Della durata Di quattro ore Allora Questo è uno scemo Intellettuale Di solito Commenta il film Con frasi come In questa scena Io noto La sofferenza Di una vita Emergere Un flashback Metaforico Allegorico Che aiuta Il protagonista A capire Cosa fare Per redimersi Una redenzione Metafisica E il protagonista Stava solamente Buttando la pasta L'unica L'unica soluzione Rispondergli annuendo E poi Ruttandogli in faccia Piacevolezza Ad averlo intorno Una stella su cinque Lo scemo coraggioso Lo scemo coraggioso Accetta Tutte le sfide Che il gruppo Gli propone Dal tuffarsi in mare Da vette elevate Ad assumere A scopo scientifico Ingerenti I dosi Di Wuttarax Lo scemo coraggioso Mette a disposizione Il proprio corpo E la propria salute Per quattro risate Di quegli stronzi Dei suoi amici Che lo esaltano Che lo esaltano Quando lo vedono Ammaccato E lo esaltano Ancora di più Quando lo vedono Con i pantaloni Tutti scagazzati Piacevolezza Ad averlo intorno Quattro stelle su cinque Numero uno Lo scemo ricco Io ne conosco un po' Figgio un scemo Da cegno un ricco Ci ho fatto anche società L'intelletto Dello scemo male La cume di un coglione E il patrimonio Da scecco Esatto Lo scemo ricco E attorniato Da tantissimi amici E anche tanta figa Lui offre tutto a tutti Ben felice Dell'umanità Che lo accompagna Illuminando la serata Con il suo sorriso Da demente Mentre gli amici Più sgamati Scopano le fighe A cui lui sta pagando Da bere Esatto Ovviamente Lo scemo ricco Essendo ricco Non rimane a secco Ma finisce a letto Sempre con tipe Che gli giurano Di prendere la pillola E si presentano Nove mesi dopo Con un bebè Diventando così Causa importante Del problema Della sovrappopolazione Piacevolezza Ad averlo intorno Due stelle su cinque Come umanità Cinque su cinque Come banco Bravo 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 Mauro Minchia Bravo 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 Stavo cercando di capire Quale scemo fossi Secondo me sei quello Un scemo che puzza Secondo me è tutti e cinque Tutti e cinque A parte quello ricco Perché manca di soldi Eh vabbè Però avrai qualche amico Non è un amico ricco No Sei il più ricco che conosco Ah si Mi chiamo Lo sei messo male Dai sei pieno Ma chi Sei pieno Ma va Hai comprato la barca Dai Ma ce l'ho da due mila anni La barca Una merda Una bagnarola Ma non è comprata Ma va La ripara da solo Immagina Si Anche Pippo Palmieri Ha la barca Ho comprato la casa Agli Hampton Non ho comprato Nessuna casa No Niente Niente Zero E mi sei messo male L'unica roba che ho fatto Ho cambiato la macchina in corsa Mentre tornavo Hai preso la Land Rover E' una roba usata Anche con quasi 60 mila chilometri 20 euro Ma che te li toglie Quanti da voglio di là No invece stavo leggendo Che un terzo della popolazione mondiale Ancora senza internet Che culo Che culo Ragazzi voi siete fortunati Uno penso Poverini Ma poverini un cazzo Quanto stavamo meglio Quando non sapevamo un cazzo Anche perché adesso che sappiamo tutto Cosa cambia Cioè c'è tutto lo scontro online Io la penso così No Io la penso cosa E poi alla fine cosa cambia Che comunque le persone Che sono importanti Influenti Che hanno in mano I bottoni di controllo Fanno il cazzo che vogliono E noi stiamo a litigare Tra di noi senza motivo Secondo me Diciamo l'aspetto peggiore Di non avere internet E' il porno Eh sì Perché comunque Essere privati dei porno Eh ma il porno Alla fine comunque Se non hai internet Ci sono le videocassette I dvd Non è la stessa cosa No non è vero Sono più romantici Una sega te la godi di più C'è più sofferta Quelli della nostra generazione Hanno erezioni più durature Per questo Perché noi per farci una sega C'era una preparazione lunghissima Madonna Mettevi la cassetta Cercavi il punto giusto Poi magari entrava qualcuno Dovevi mettere via Questo è vero Questo è una reazione dal 91 No ma scusa E ancora c'è Sai che adesso cercano La gente cerca online I vecchi postal market Per tornare a farsi la sega vintage Che bello Bellissimo La sega che ci facevamo noi Con postal market Che era un catalogo Di abbigliamento E c'era una sezione intimo No E lì si vedeva E non si vedeva niente Non si vedeva niente Vedevi un po' il pelo Allora esatto Perché erano gli anni No si Perché erano gli anni In cui c'era ancora Troppa pelosa Si c'era la mutanda Un po' trasparente Col pelo Vedevi sto riccio Nero sotto Sai che secondo me Quello che faceva Quelle foto lì Lo sapeva Perché gli ultimi numeri Erano molto spenti Eh si Quasi pecorino Eh si Cioè vedete Delle posizioni Che non erano Da intimo normale Comunque papà Volevo farti una confidenza Ora io non so Se effettivamente tu Avessi quella collezione Di playboy In ufficio Che spacciavi Per utili Per fare dei ritratti Beh giusto Perché il ritratto Dal vero Comunque del corpo femminile Necessitava di una modella Non so Io l'ho trovato Più e più volte Con delle modelle nude Nel suo ufficio E diceva Sto dipingendo Scusa esce Sto dipingendo col pennellone Col pennellone Comunque Minchia la volta era bella Cioè la segara Era un lavoro Cioè avevi l'amico a scuola Ti ricordi al liceo Che ti passavano il giornalino Che aveva Inizialmente 40 pagine Poi erano due Perché diventava Solo copertina Esatto Allora è anche maleducazione Però scusa dite Presto un po' Non puoi anche girarti Dall'altra parte Eh sì Devi finire su quello Che ti ho prestato Era come il barone rosso Mettevi le X sulla cupola Che cazzo vuoi i puccioni No stavo pensando Che voi però Guardate solamente Al lato ludico Per quanto riguarda La connessione a internet E non invece All'aspetto che Insomma Quale Dimene uno Dimene uno Dimene uno Dimene uno Ha inventato facebook Per ritrovare un compagno Di classe Di cui non te ne frega Un cazzo Ma internet non è solo I social Dimmi cosa fa A parte facilitare a me Il lavoro Perché io grazie a internet Posso trasmettere Dall'America E vivere in America Quindi io lo ringrazio Grazie all'ISDN No vabbè però Io uso internet Dici Trasmissione di dati Però immagino Che insomma Il World Wide Web Cosa ha portato Dimmi Cosa ha portato Amazon Amazon E ha distrutto Quindi ha arricchito Un uomo solo E ha distrutto Tutti i negozi Che ci sono nel mondo Perché la gente Non apre più negozi La gente non va più A fare shopping Cioè La ricerca Non la fai più tu La fai online Te la fa per te Amazon Quindi distrutto Distrutte le grandi città Che hanno Queste belle camminate Il sabato A fare shopping Chi cazzo vuole più Aprire un negozio Quindi già quello Fai Dai Travi una roba buona Saluta Antonio Bello Pensa internet Ha inventato Saluta Antonio Cabilame Poi La Ferragni Tanta cultura La cultura La diffusione della cultura Ma quale Ma chi cazzo la guarda Ma chi legge Cosa Non leggevano i libri Prima Non li leggono neanche adesso Nessuno si accorgono Anzi addirittura uno Pigro Grazie a internet Pensa di sapere tutto Perché va su Google E cerca Anche i chirurghi Adesso Come si fa Vanno su Google La diffusione della musica La musica Ha distrutto Il mercato musicale Albertino Si è comprato 26 case Con i dischi Comprati veri Noi che adesso Siamo nell'era digitale Non guadagniamo Un cazzo Se a questi che non hanno internet Vi porti 5-6 canadar di mandolini Li fai più contenti Eh sì Buttiamo dei mandolini ai poveri L'unica cosa che mi spiace È che non potranno mai andare su www.fumagazzi.it Dai che abbiamo l'infameria telefonica Andiamo Bastardi Stiamo andando a prendermi Infameria telefonica Infameria telefonica Infameria telefonica Infameria telefonica Infami Infami Tagli da mesi E in maniera maniacale Se qualcosa andasse storto Penso che si darebbero fuoco Pensateci voi Round 1 Sì pronto? Eh sì pronto Parlo con Giulia? Sì sono io Ciao Giulia Sono Silvio Ti chiamo Per via di Francesca Per la villa Sì sì Buongiorno Senti Io Non so come mettertela giù Perché Siamo un attimino imbarazzati Abbiamo avuto un problema Un'infestazione insomma Nella casa E purtroppo Siamo costretti a A dover cancellare L'appuntamento Di sabato Alle 11 Insomma Ma sabato questo? Sabato questo? Sabato di morte Sì Adesso stavo Stavo leggendo Il rapporto Che ha fatto il signor Catania E purtroppo C'è un'infestazione Proprio di topi Ok Le posso passare Il signor Catania Un secondo Così magari Con lui Vi mettete d'accordo Perché se riusciamo A risolvere il problema Entro sabato Magari La cosa Si può recuperare Ecco Va bene Va bene Me lo passi pure Attendo un attimo Mi scusi Round 2 Sì buongiorno Sì buongiorno Purtroppo Diciamo I sotterranei Dalla villa C'è una Colonia Di questi topi Che sono topi Sono specie alieni Si chiamano Nel senso che Vengono da fuori Non sono topi Normali di campagna Quindi noi abbiamo Messe le esche Tutte le trappole Però purtroppo Non sta funzionando Io dal punto di vista Sanitario Non posso autorizzare La permanenza Di esseri umani Perché ci sono i veleni Sono le gabbie Però mi deve dire lei Ma posso chiamare Un attimo Il mio compagno Visto che è anche Del settore Magari se riuscite A parlare con lui Se ne intende più di me Il discorso Potrebbe essere Diciamo Che noi lasciamo Cioè che lasciamo A vista Queste cassette Voi fate la cerimonia Ci può essere Che passa qualche rato E la cassetta Lo indrappola Diciamo Sono queste Queste cassette Di produzione tedesca Che decapitano il rato Bravi a sentire un attimo Sergio Va bene Lo chiamo subito Al limite la richiamo Salve salve Buongiorno Salve 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 Pronto? Sì pronto Cercavo Signor Sergio Sì sono io Chi è lei? Salve Sono Salvo Bistacchio La chiamo Per nome di Francesca La proprietaria della villa Ma insomma Campania Sì Abbiamo appena parlato Con la sua compagna Sua futura moglie Giulia Purtroppo abbiamo Un problema nella villa Che è infestata Da dei topi esterni Diciamo alieni Li chiamiamo noi Si avete per curiosità Di azienda di disinfestazioni Sì Io sono qua Con il signor Catania Che è il responsabile E ha già installato Delle gabbie Sì ma è il mio lavoro Per quello glielo cedo Ah fantastico Fantastico Se vuole glielo passo Così magari Se attende un secondo Prova a passarglielo Un attimo solo Sì pronto Mi dica Il problema è che c'è questa colonia Di topi Noi naturalmente abbiamo messo Tutte le trappole Abbiamo piazza di Veileni Però dal punto di vista sanitario Io non mi sento di garantire Che per sabato La colonia è stata debellata Capisce bene Che potrebbe verificarsi Una situazione spiacevole Questo Ad esempio Ad esempio i topi Che passano durante il matrimonio Da ignorante Tra virgolette Il topo quando c'è confusione Non si verifica Primo Non so se ha presente Diciamo tutte le varie ali Della villa Ma mi interessa il giardino Quindi non è che mi interessa Sì ho capito Ma ci sono i sanitari Ci sono le parti delle cucine Ci sono le parti di magazzino Dove transita la gente che lavora Non so lei Se vuole fare il matrimonio Con la gente che lavora In mezzo ai topi Non lo so Questo è su il matrimonio È un problema che ha creato l'azienda La location non mio Cioè nel senso Mi dovete risolverlo voi È un problema vostro Io ci rimetto 30.000 euro Quindi problemi vostri Io le sto dicendo Che la colonia È una colonia importante Che sono state piazzate Le trappole Ci sono queste trappole A decapitazione Che lei del settore Le conoscerà Ah le T-rex O quelle classiche Le T-rex No le T-rex Che sono di fabbricazione tedesca Mi arrivano da Dresda So quel col meccanismo interno Che decapita il topo Sì ho capito Eh esatto Io non so se lei Si vuole sposare In un posto Dove ogni tanto Scatrano la trappola Tagliano la testa Non so magari Lei ha la perversione Dei mammiferi morti Ho capito Non ha capito un cazzo Scusi la franchezza Però non ha capito un cazzo Io l'ho chiamata Dicendo che l'autorizzazione Non ce la posso dare Poi se lei mi fa No quello ho capito Eh se lei mi fa Lo scarico di responsabilità Che il signor Catani Che sarei io Non basta nessun guai Con la giustizia Lei si può sposare Anche in mezzo ai veleni Ci posso Posso farle arrivare Anche i gordi e gli avvoltori Eh no se calmi un cazzo Avvocato Questa persona non capisce un cazzo Chiamata apposta Pronto Signor Sergio mi scusi Io ho capito quello che dice Non ho problemi Basta che mi vengano ridati I miei 30.000 euro Che ho investito Per fare un matrimonio E io mi sposo un'altra volta Eh sì Non è un problema Signor Sergio Qua purtroppo È un problema della tizia Ma qui non è Non è un problema di nessuno Cioè la responsabilità È a metà Diciamo Eh non penso proprio Eh beh signor Sergio Non è mica mica a casa mia Ma neanche noi abbiamo Non è che noi abbiamo invitato I topi Qui Facciamo così Possiamo magari Rimborsare la metà E a posto così Ecco Di cosa La metà di che Di 30.000 euro 15 Eh Cioè diciamo che Possiamo fare se vuole Che me ne date 20 E mi date una soluzione Per fare il matrimonio sabato Se volete Eh io come faccio A organizzarlo D'altra parte Se no scusa caro Questo viene che è del settore Se no si fa lui La disinvestazione dei topi Li levo dal gazzo E sabato gli lasci la villa In realtà sono su un tetto Puoi dirglielo L'esponsabile dei topi Sono su un tetto A fare colombi Però Ah fai colombi Faccio anche colombi È un classico Quelli che fanno i cazzi Di piccioni colombi Non capiscono un cazzo di niente Scarafaggi e i topi Non capiscono un cazzo Parlano che c'hanno la bocca Per favore Parlano che c'hanno la bocca Questo fanno gli uccelletti Per favore Hai visto che cosa fanno quelli dei topi Sì ma stia calmo Sai cosa fanno quelli dei tetti Mettono degli spundoni Sui tetti Ha finito Con l'animale non ci parla proprio Sì Ci parla col topo Stia calmo Stia calmo Mi scusi Signor Sergio Quanto posso essere lì Vuol venire Viene qua Se vuole No perché se lei viene qui Allora magari troviamo un accordo Perché se lei ci aiuta A disinfestare A quel punto lì Abbiamo risolto Potrei essere verso Mezzogiorno Per mezzo 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 Che si porta la sua roba Che magari la mia Che è professionale Non è capace di usarla Che non viene con le gabiette Degli uccellini Che veramente Non è nata di offendere Ma questo fa i piccioni Mi viene a parlare dei tobi 40 anni Che ha a che fare con i tobi Questo fa gli uccelletti Quindi che si porta la sua roba Perché la mia Non la tocca No io non tocca La roba degli altri Non c'è pericolo Ha detto che non tocca a nulla Non c'è pericolo Vabbè a pranzi paga lui però No io non pago Ti pago per me Poi vengo a vedere In location Vengo al ristorante Ha detto che Ma neanche il pranzo mi pace Ma stia caldo Pessende di merda Discusi signor Sergio Ci vediamo tra poco Ah tra poco Salve Oh god Signorina Giulia Sì Ho parlato con il suo compagno Sergio Sì Vi rimborsiamo la metà Della somma versata E vi trovate un'altra location Ma se è uno scherzo Me lo può dire subito Se sono su RDS Quelle cose di rivisto Che vi seguo tutte le mattine Laura intanto lei Oltre ad avere cattivissimo gusto Nell'uomo che ha scelto di sposare Ha scelto anche una radio di merda Perché noi siamo di radio 105 Non di quella puttanata di RDS Che ha ucciso gli angeli La radio che coltiva i topi RDS Radio dei sorci Allora da domani Basta RDS Basta Solo 105 Solo 105 Solo radio 105 Anzi accendi la radio oggi alle 2 Così ti senti in onda Ecco Giulia Magari daccelo Una telefonata a Sergio Che sta per venire a Somma Campagna Mezzogiorno e mezzo A disinfestare con le sue mani la villa Lo chiamo subito Ciao Giulia Grazie Ciao 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 Ma Madonna Mi ho razzvesti proprio Bastardo Bastardo Comunque C'è questa rivalità Tra quelli che fanno i piccioni Ma non è vero Io ho un mio carissimo amico Ma chi Che è il fratello di Marrakesh Il fratello Rai Si gioca con me a pallone E lui fa i tetti Si Poi si occupa di C'è un odio tra lui e quelli dei topi Ma una cosa Ma tipo C'è il padio di Siena Ma perché Non si possono Si dividono i lati nella strada Se uno va a fare i topi Allora non lavorano mai insieme Si aspetta nei semafori Cambiano strada Ho un'idea Facciamo un'ibrillazione Fra topi e piccioni Io non lo mettiamo nel culo Sono obbligati a collaborare No una divisione bianca e nera Ma non è vero No ma ti giuro Lui c'ha il tatuaggio qua C'ha un piccione morto sul braccio Ma non è vero Te lo giuro Che testo Lui alleva i topi Butta apposta i formaggi Nelle strade Comunque se avete Siete un amico coglione Un'amica cogliona Siete me Un genitore O delle persone che vi sta sul cazzo Mandateci tutti i dati di questa persona Il tipo di scherzo che volete che gli facciamo E noi lo massacriamo proprio a dovere Più dati abbiamo E più è facile realizzare lo scherzo No persone con delle disabilità mentali Eh sì No persone solo Perché si rischia sempre di chiamare qualche parente di Paolo Nois Quindi non è bello O di spendere in tribunale 15.000 euro Esatto Poi c'è chi accusa così di aver detto una roba orribile quando non è vero Poi ci sono cause con persone che vanno avanti da anni 18.000 euro regalate Sfruttando questo momento del politically correct del cazzo Che è una grande puttanata Il politically correct Bravo Dillo quello che pensi di quelli di coloro No cosa c'è Secondo me è giunto il momento di farlo Hai esagerato Tu di quello che dici sempre delle donne Io E anche degli ebrei Marco Ma ma no È il momento È il momento Ma io amo tutti ragazzi Su bianco Io amo tutti Io amo tutti Purché non mi rompa i coglioni Io amo tutti Che sei giallo, verde, blu, ross Passa che non mi rompi Non proprio tutti Non proprio tutti Non proprio tutti Io invece ho scoperto che i giapponesi sono un popolo molto razzista Non pensavo Loro odiano tutto ciò che non è giapponese Sì Ti rispettano Sono gentilissimi Ma dentro muoiono Posso dirti una roba Adesso tu che ci sei stato in Giappone Cioè tritarti i coglioni Però in realtà dobbiamo uscire a cena Devo ancora cominciare a tritarti i coglioni Sono l'unico veramente interessato Perché è il mio sogno andarci Ma scusa ma perché non sei Stai zitto Tu che sei Tu di tu sei La Mongolia Dai vai di là Vai a fare i rasoi Dai Stavo dicendo La spada e i rasoi Quelle robe lì La spada Vai vai La rotina Vai a fare la rotina Fai parla con una persona che viaggia Una persona che c'è una cultura Chiamami Marco Polo Esatto Senti ma effettivamente Non hanno un cazzo di invidiare nessuno Vero? In Giappone È un paese completo Allora loro Il paese funziona Ottimamente È come nelle leggende Dice Non c'è il treno in ritardo Veramente non c'è il treno in ritardo Scusi ma lei non è in Mongolia Ma può andare È qua che è lì la vita Spada Prego Però dentro sono dei repressi Porci Pedofili Pederasti Sì 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 Sono un po' No no sto scherzando No è vero Mi scusi eh Ma lei non era sul treno per la Mongolia Come si chiama la capitale della Mongolia? Ulambator Ho visto che ti ha fatto l'occhio in uno Andare in mania a pipare Chiamatemi Noi che mi lasci qua il bar E quindi? Quindi sono molto ligi alle regole Però nel privato sono delle persone che Sono psicotici È vero che c'è rispetto Rispetto per tutti Allora è veramente un paese pulito Funzionale Cioè ma proprio a livello maniacale Non c'è una striscia pedonale Meno pitturata dell'altra Ci spostiamo ad un altro tavolo Che c'è il sole qua Che cazzo Ma dove sono io pitti del sole? Scusi Ma non eri in Mongolia a fare le spade? Eh? Scusi eh Qualche rete Arrivo che c'ho Eh no perché siamo usciti insieme di lui a pranzo Però vedo che sta parlando con lei Io sono qua mi sto annoiando Mi perdono Guardi con la signora anziana lì Signora si può essere qua con noi? Sì grazie Stavi dicendo scusami Stavo appunto dicendo Però poi anche loro sono un popolo pieno di contraddizioni Allora la signora mi ha invitata in bagno a pimpare Ma senta A me del Giappone non frega un cazzo Vado con loro Scusi Mi porta almeno una birra Grazie In polvere? No Ma perché non sei uscito a cena ancora con noi? Eh Perché non mi avete invitato Perché ieri sera? Tutte le sere Paolo li invita ovunque Mi chiama la mattina Buongiorno Fiorellino come stai? Hai dormito bene? Scusa ma di cos'è bisogno un invito? Questo è da solo Deve mangiare Io non ho trovato quel messaggio su Whatsapp Dice oh sai Esco a cena con Paolo Vieni anche tu Sì Ma te te lo vieni Però scusate un secondo E qua me la piglio un po' con tutti Io sono arrivato a Milano Quando? Sabato è stato? Sabato Sabato giusto? Eh Sabato E ho vissuto un inferno E comunque Immagino Spero che almeno voi Che mi volete bene O con cui lavoro Mi seguiate sui social Quindi qualcuno avrà visto il mio disagio No Ma morire se uno di voi ha scritto Oh Hai bisogno Ti vengo a prendere Il silenzio L'uniche Due persone Che ogni volta Si preoccupano di me Sono Angelo e Lucia Della Vipernolo Sempre disponibile No ma lo so Angelo è il mio fratello No è il mio fratello No no Vabbè allora applaudiamo la gente Che vive su Instagram A farsi i cazzi tuoi No no A parte voi Ma dico anche gli ascoltatori Ma uno ascoltatori Oh mazzo Ti vengo a prendere io Hai bisogno Ti aiuto Lavoro Niente Ho perso la valigia No ma ha inculato nessuno Sai che dopo questa dichiarazione Avrai il reddito di cittadinanza Non la voglio Non lo voglio Io voglio pagare Io voglio pagare di più No no Te lo danno Sei una merda Ma sai cosa mi scrive Lui domenica Domenica sera Io l'ho arrivato sabato mattino Domenica sera mi scrive Oh quando atterri Era pomeriggio Ma vai a far culo Quando atterri Quindi non mi ha mai niente Io ho lavorato sabato sera Credo anche io Mentre sei sul palco Devi pensare a tuo fratello Guardare Ma mentre sei sul palco Devi uscire dal buco Ah già lì Sei caduto No non è vero Io anche no ho avuto il buon gusto Di non scriverti niente Fino a martedì È vero È vero Sei stato coerente Non sono stato il solito fardo Che ti schiede in ritardo Quando arrivi Dove ci porti a cena stasera Stasera non ci sono Sono a lavorare a Floridia Provincia di Alghero Con Pippo Palmieri Ah io stasera ragazzi Ho la cena con Suocero e suocera Di chi Cazzo Eh di chi C'ho una moglie Di chi Ma senza la moglie Con mio suocero e mia suocera Cioè tu hai a cena con mio suocero e senza tua moglie Eh ma è il compleanno della suocera Il compleanno Ma chi cazzo te le frega di una vecchia baracchia Ma come no È piena di soldi Stavo appunto dicendo Fammi la videochiamata quando vai Ma ha anche detto Lascio tutto a te perché tua moglie è una cretina Brava Allora Ma è meglio di così Se vuoi io vengo e due colpi glieli dò No No Non c'è bisogno Però scusa Quando te lo dicevo io che era una cretina Mi dicevi no non è vero Non la conosci bene Adesso che te l'ha detto la suocera Te l'avevo già detto io che era una cretina Ancora prima che diventasse tua moglie Cazzo Paolo Vieni a cucinare Ah no Non sei molto bravo Meglio che cucini io Sì Tanto hai successo comunque Eh lo so Non si può cancellare quella cosa Eh chef Sì chef Al tuo posto chef Andiamo C'è l'appen up Eccoci qui Sì Sì siamo sempre noi Quelli dell'app store più entusiasmante di sempre Sì Up and up vi strablierà ancora Per una nuova stagione di applicazioni mai viste prima Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire alla moltitudine delle società satellite E il giro delle scatole cinesi che riversano i soldi a palate sui nostri conti alle Cayman Siamo troppo forti Cosa aspetti? Registrati subito su Up and up E up and up Il portale da tutto per scaricare tutte le applicazioni No Oggi nella categoria fai da te ChineUp È finalmente arrivata l'applicazione che tutti aspettavano Sì potrai realizzare i tuoi sogni diventando commerciante Perché ChineUp è un'applicazione favolosa Che ti permette di entrare nel mondo del commercio all'ingrosso Ti basterà registrarti Scegliere la categoria di prodotto Ed effettuare il tuo ordine Cosa è? Uè Gianni! Oh Giacomo! Ma dove l'hai rubata sta bestia di Ferrari? Ma che rubata? Mi sono registrato a ChineUp e ho iniziato il mio busines E che roba è il busines? Ma dai mi sono messo in commercio Vendono oggi di alto livello Guarda qui Cavolo che bello! Ma scusa ma c'è scritto Frolex Eh sì sono le repliche fedelissime fatte dalla stessa Rolex per il mercato parallelo Compri e vendi tutto in cash Black te capirla? Wow tu sì che sei avanti Uè Giacomo ma dove stai andando? Scusa adesso devo scappare che c'è la polizia che mi cerca Pazzesco vero? Sì perché ChineUp con un ulteriore abbonamento irrisorio da 100 euro a settimana Ti fornirà anche una rete di vendita a capillare per startare il tuo business e iniziare subito a guadagnare Amore ma cosa sono tutti questi scatoloni? Eh tesoro ho aperto un business grazie all'applicazione ChineUp Amore ma non sarà mica un'altra cagata delle tue dove ti fai prendere i soldi Eh ma no cucciola tranquilla ne è semplice io faccio l'ordine poi abilito la funzione distribuzione e il servizio ChineUp fa il resto Ma chi è sto balengo che ci toffano a quest'ora? Buongiorno signore sono da mercato capisci? Ma no ma chi siete che volete non ci abbiamo mica i soldi no? Buongiorno signore siamo distribuzione ChineUp Prendiamo e consegniamo a vari venditori per strada capisci? Amore ma che cosa stai combinando? Tranquillo amore sono quelli della distribuzione Ma distribuzione di cosa? Eh amore è per il mio business Senti tieni questo è un pensiero per te Ma che roba è? Sono un paio di cuffie all'ultimo grido wireless e il microfono per il telefono Beh guarda che son di marca ne? Amore ma se su la scatola c'è scritto Sonia Ma non ti ricordi quando scopavamo in macchina che mettevamo le cassette della Sonia? Ah sì ne è che ricordo E non perderti la nostra community di Snookers Dove potrai scambiare e comprare e rivendere le scarpe più gettonate della storia Uè Franco ma che cazzo c'hai ai piedi? Belle vero? Eh sì Sono le ultime Mike Cairo Giordano Non so se mi spiego Mike Cairo? Ma va che non sei proprio un cazzo Le famosissime Mike Cairo Giordano le ho pagate 3000 euro Scusa Franco non è che io me ne intenda ma secondo me ti hanno rifilato un taroccone Ma che taroccone? C'è anche il baffo? Sì ma è il baffo Moretti Cosa aspetti? Scarica subito Shine Up E per i primi 100 abbonati il regalo direttamente dal Dark Web Acchiappalo Una masterclass completa che vi insegna a rapire e torturare le persone Wow È la mia È la mia L'abbiamo rapito e maltrattato adesso Sì 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 Dunque mia moglie ha scritto Ah anch'io facevo la modella su Postal Market Ha 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 Vuol dire che Fabio e Paolo si sono fatti almeno una sega No l'avrei riconosciuta No io no perché mi facevo le seghe con gli occhi chiusi quindi scusa Ah tu perché hai amore col cazzo Esatto Ah sì Io con trasporto Davvero? Sì sì Quindi tu dici che ti sei fatto una sega guardando mia moglie Mi ricordo quelle lentiggini Io la prima sega ho portato il cazzo al cinema Caro Fabio ci sei? Sì Allora caro il mio Fabio Devi fare un favore a Pippo Sì Stasera lavori insieme al Nano di Cormano a Duri in Sardegna Ok E dovresti portargli una pompa nuova per il suo kite L'ha dimenticata a Milano No Grazie Fabio Grazie a Cazzo Una pompa per un amico È per sempre Eh Con Palmiere non sarebbe neanche la prima Ma quante discoteche ci sono in Sardegna Vai esaurite tutte Piazze 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 Ma finiranno anche le piazze Sì sì Infatti questo è l'ultimo Ma lo conoscono tutti a memoria Poi cominciamo con le chiese Ah ok perfetto mamma Allora qualcuno ha scritto Ma è vero che tua moglie ha fatto anche la pubblicità della Valsoia nel 93? Sì Aveva le sopracciglia di Tom Cruise però Vabbè i tempi andavano Sì Belle folte Allora devo chiederti Ma ha fatto anche Nutella Devo chiederti scusa anche per quella Ma mia moglie adesso per me è la donna più bella del mondo Anche lì ti sei fatta una sega Vabbè Con Valsoia Vabbè Madonna Non si può dire di nuovo Valsoia Vabbè Sai che probabilmente ti sei masturbato con la moglie di Marco? Sì È quasi sicuro Per questo ti chiedo scusa Ma come quasi sicuro? Allora è sicuro No Fabio È entrata illegalmente in tutte le mie fantasie Cioè perché tu Ma prima che fosse tua moglie Ma indistintamente andavi a segarti su ogni immagine di Postal Market Io anche se le barbe Cazzo io comunque vorrei invitare qua in studio Se ancora vivo il fondatore di Postal Market Ma l'hanno rifatto qualche marca importante Sì ma io vorrei lui Cioè il genio Ragazzi quello è un genio È un genio americano È un genio inconsapevole Postal Market? Sì Era la base Era la base Stavi dicendo Paolo Stavi dicendo? Dicevo che io non disdegnavo nulla Anche le canoie Cioè Qualsiasi cosa Anche su giocattoli Anche su giocattuto Cosa? La figa? No dico Quando mi ci toccavo Perché tu scorrevi no? È là nella pompa magna No? Ah caga pure l'onda Puccioni oggi Vai serena È rumorista È diventata Sono in cavallo Cloc 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 Comunque Postal Market Nasce nel 1959 Vabbè fregatele il cazzo Di quello che dicevo Ha un'idea dell'imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini Che importa Bocchini si chiamava Statunitense della vendita per catalogo Quindi è nata qua È italiano No cretino È italiano Postal Market Sì ma l'ha copiato dagli americani In America già vendeva E non possiamo averla in onda Io la voglio avere Cioè è un genio sta donna È morta nel 2003 Ebbè portiamo Il metro Cioè Dov'è che è sepolta? Eh dai Il selfie con la rapide Comunque se ci senti da lassù Genio Chi ti dice che sia lassù? Eh magari laggiù Non lo so Eh perché con tutta la gente Che ha fatto quelle cosacce lì Su Postal Market Secondo me Buon Dio l'ha ricacciata Nelle piamme Non credo che lei Avesse creato Postal Market Con quell'utilizzo Ah c'era del dolore Siamo noi porci Anche le automobili Sono state create Per conservare il cibo Stavi dicendo Che tu ti insegavi anche sulle barche Non lo capisco No praticamente Io ero lanciato in corsa No? Sì Cioè sfogliavi Eh 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 Se voi eravano giovani Giovani Ti sei mai fermato sul Su cowboy della Malboro? Cioè a un certo punto C'era anche io della Malboro Adventure Ah sì Vabbè lo che ha fatto? Ah la cappotta Poi c'è dovuto finire Le scarpe Allora aspetta Questa è una roba È una roba molto Da Diciamo da persone degli anni 80 No? Cioè vi è mai capitato Proprio in quella situazione lì? Sai che Era difficile farsi una sega Non so scherzare Ah certo Cioè Aspetta Apre una parentesi Il libro massaggiatore da collo Era un cazzo finto eh Sì Lo sappiamo Però dico come con Paolo no? Sei lì tutto preso Sì E per far partire la fantasia Siccome sono immagini Non c'era Non avevamo il video Era una foto Ferme Perché sento che tra poco Verei preso per il culo? No perché giustamente Cioè poteva capitare Che tu voltando pagina Il cannone era pronto a sparare E finivi sulla faccia Di quello della Malboro Country Capito? Ma ti dirò Comunque era un bell'uomo Sì Fammi capire Io ero l'unico che invece Ritagliava solo le parti interessanti Da Postal Market Li incogliava sui fogli E si faceva il libretto Solo quelle immagini interessanti Questa è la sega preterintenzionale Perché preterintenzionale? Perché tu facevi Oh Sono inciampato Nella sega Scusa un secondo Mi dai per favore il controllo Il comando lo voglio io Cioè tu sei piccolo Non puoi avere il comando Scemo Non hai l'età per guidare Questo programma Vedi Scontro generazionale Scusa Suma Tu con cosa hai iniziato A toccarti l'uccello? No c'è mia mamma che ascolta Non se ne può parlare Ma lo sa Ma lo sa Mi hai iniziato dieci anni fa 13 anni fa Ma è con internet Ah quindi zero giornali Tu mai Subito porno via Eh beh sì Ma scusate Io sono nella generazione di mezzo Dirò una cosa Che magari è ovvia Per voi Che siete esperti Della sega Con oggetto manuale Con rivista Sono curioso Venivamo tutti Sulla ragazza Giusto? Che senso Cioè Manomettendo quindi la rivista Tutto appiccicatico Sì 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 No Come no Questa roba va sfattata Io ho bovinato un calendario Di Masha Ferre Ma no Questa è una roba Che non ha senso Cioè Che cazzo Andava organizzata E non era giusta Oh Lui Lui Allora lui Il problema di Paolo Che sembra un pazzo Però lui è una vergine È un preciso anche nella sega Allora Si organizza anche Il paracadute Era doppio Scusa Scusa Questo non io Il pretero intenzionale Ma Scusa Il pretero intenzionale Questo è il tuo uccello Ci metti sopra il paracadute Ma no Ma no Oppure Al massimo Una calza bagnata Ma sei scemo Ma scusa Ti perdi l'effetto Ripiena di scotex Quello morbido Quella è simulazione Di vagina di carta Ma no Tu ti sei mai preparato Ti viene lo stimolo Allora Io per un certo periodo Ho comprato questa capra No Vabbè basta Abbiamo chiudere il programma Ok basta Finita No abbiamo gli spot Hai alzato troppo l'asticella E tu devi sempre esagerare Devi sempre superare il limite Sei tu Una volta era lui Poi sono diventato io Adesso sei tu Allora non è vero Che ho comprato la capra Quello vinto alla festa E questo è il motivo Per cui ci siamo lasciati Vabbè Ma l'hai presa bene Dai Ma sì Rediamoci su dai E beviamoci su Soprattutto Giusto Quindi Che ci beviamo Allora Vuoi un amaro amaro O un amaro 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 Mi piacerebbe Un amaro 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 Ma gradirei anche Qualcosa di nuovo Di nuovo dici? Sì Qualcosa di nuovo Ma qualcuno per caso Mi ha chiamato Ma lei chi cazzo è? Sono lo spirito della Calabria Ed ho portato qui per voi L'anduia di Ernesto Pernicotti L'unico amaro Fatto interamente Di induia di San Gineto In provincia di Cosenza Ma è amaro O amaro amaro? Provalo e dimmi Oh Caspita È proprio amaro 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 Esatto Se stai cercando qualcosa di buono Ma se stufo dei soliti sabori Che il supermercato ti propina Guarda bene in tutti i reparti Che magari qualcosa lo trovi Ma se proprio proprio non ce la fai La soluzione te la diamo noi E qui per te l'amaro Amaro all'anduia di Ernesto Pernicotti Solo per bravi picciotti Ma picciotti non era siciliano Zitto Zitto cosa? Zitto cosa? Zitto cosa? Ma poi era un Calabrese anche male Brutto 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 Non puoi fare Fai bene il Calabrese È un Calabrese Un manager Rempante Te lo ricordi Sei 80 Cazzo Bambi Basta al market È un altro Rempante 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 Che andava la Bocconi Eh sì Wey Bocchino Bocchino? Eh beh Eh come Scusa Allora Siamo inizio di un porno Sì Hai preso la tezza Wey Bocchino Finirà così Finirà così E io ho provato a limonarti su quella spiaggia Non hai mai voluto No Paolo guarda no L'alito La scella Non fa il monaco Poi adesso voglio chiederti una roba Perché ti sei strappato una manica Vedi una manica sì Una manica no E uno straccio in testa Ma guarda che Non era niente quella roba lì Stile Ma non era stile Stile Allora lui ci ha strappato la manica Per far vedere il serbente per intero No è un'altra Strappata Infatti hai sbagliato a strapparla Oramai Mamma mia Mamma Ma come eravamo visti da fuori Oh Oh Non c'è tempo Marco Dai dimmi No dobbiamo fare la cena Una parola Una parola Orribili Anzi orripilanti Perché non vai tu l'anno prossimo Ma vai a far cuore Sì vai tu Dai Sei il pazzo Dai Bellissimo Non è il mio campionato Il massimo sarebbe Lo conduciamo io e Paolo E tu vai là Sì Esatto Così vinco Sì Io Paolo e la Puccione No perché ti faremo perdere Alla prima E anche invitata in studio No è il finale È il finale Ci sentiamo domani